Straordinaria partecipazione nelle assemblee dei lavoratori delle sedi territoriali dell'Agenzia delle Entrate della provincia di Salerno in vista dello sciopero nazionale in programma a Roma. Sono più di 30.000 quelli in attesa dell'erogazione del salario accessorio 2016-2017 che da tempo attendono risposte mai arrivate. I lavoratori, ha detto in una nota il segretario generale della funzione pubblica della CGL di Salerno, Antonio Capezzuto, non meritano questo trattamento dal momento che grazie alla loro professionalità ed efficienza l'incasso dell'Agenzia nel 2018 è ammontato a più di 19 miliardi di euro. Ottime, ricorda il sindacato, anche le potenzialità dimostrate nel contrasto all'evasione fiscale. In soli due mesi sono stati bloccati ben 688 milioni di euro di falsi creditiva. Valori comunicati dalla stessa Agenzia e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria lo scorso 18 marzo, occasione nella quale più di un migliaio di lavoratori degli uffici di Roma hanno partecipato alla grande manifestazione in Italia che si è svolta presso la sede dell'Agenzia in concomitanza con la presentazione di risultati, chiedendo a gran voce l'immediato sblocco delle somme del salario accessorio per gli anni 2016-2017, nonché l'immediata conclusione della terza tranche delle progressioni economiche. Il lavoro strategico dei lavoratori delle agenzie fiscali, ha affermato Capezzuto, invece di essere premiato viene delegittimato da questa assurda posizione dell'Agenzia. Risultati tanto evidenti non bastano ad invertire la rotta interpresa ormai dal 2016. In più si aggiunge che nei prossimi tre anni si prevedono 500.000 uscite dal pubblico impiego, 150.000 delle quali solo per quota 100. Una vera e propria emorragia di dipendenti pubblici tali da mettere in ginocchio l'intero sistema. Il vero tema, ha sottolineato sempre la CGL con Capezzuto, è che a questa fuoriuscita di personale il governo non risponde con un piano straordinario di assunzioni, ma anzi blocca addirittura i concorsi denotando una completa mancanza di programmazione e idea di futuro del Paese. Queste le ragioni per cui, dopo un tentativo di conciliazione al Ministero del Lavoro, che ha dato esito negativo, ha annunciato il segretario generale della Funzione Pubblica CGL di Salerno scenderemo in piazza per lo sciopero nazionale di tutto il personale. Grazie a tutti.